Ubic presenta Io lettore L'app che ti porta in libreria Crea il tuo account ed entra a far parte della community Arricchisci il tuo profilo con foto e storie in tempo reale di ciò che stai leggendo Vota e commenta i libri che ti interessano E crea la tua biblioteca personale Scopri i lettori simili a te grazie all'algoritmo dell'app che calcola le affinità tra utenti Scegli la tua libreria Ubic preferita E vedi le disponibilità di libri in tempo reale E la vetrina digitale del negozio Naviga nel catalogo e scegli il libro che desideri Prenota e ritira nella tua libreria Ubic di fiducia O scegli la consegna a domicilio Esplora i titoli in primo piano Guarda le novità e i trailers e approfitta delle promozioni in corso Scopri nuovi libri che potrebbero piacerti Io lettore analizza le tue letture e te ne consiglia altre in linea con il tuo profilo Nella sezione eventi, tantissime occasioni online e in libreria Per incontrare i tuoi autori preferiti Comincia subito Scarica Io lettore